Tu mi mandi, ti se mi guardi, 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 tu mi mandi, ti se mi guardi. La buona, il brutto e il volley, il programma dei campioni. Beh, oggi di campioni, amica mia, ma ne abbiamo ben donde, eh? Altro che... Eh, scusami tanto. Intanto è un campione europeo, prima di tutto, in carica. Campione mondiale con l'Under 19, Under 20, Under 21, scusami. E adesso prossimo finalista, non si dice niente, della Coppa dei Campioni, Alessandro Micheletto. Ciao Alessandro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ecco, adesso va bene. Va? Ok. Scusa, li ho invertiti. Eh, non c'è problema. Allora, Alessandro che potete vedere anche in diretta? In diretta sulla nostra pagina Facebook, Radio Dolomiti Trento, in tutta la sua altitudine, mi viene da dire, neanche altezza. Sembrano passati otto anni solo quando raccoglievi i palloni ai margini del Palatrento, del BNV, e invece sono passati otto anni. Dai lati, dalle righe esterne, sei arrivato al centro del campo. Eh sì, è stato lungo ma bello. So cosa vuol dire giocare per questa società, quindi è stato un po' un sogno che è diventato realtà. Ho sempre sognato di poter entrare in quel rettangolo di gioco e finalmente ce l'ho fatta e mi sto godendo questo bel momento. Alessandro è un predestinato, tanto salutiamo papà Riccardo che è team manager della squadra, ma non solo, è anche stato un giocatore della nostra formazione. Ero predestinato anche se fino a un certo punto si diceva, ma questo ragazzo non cresce, è un po' piccolo, ma veramente. E infatti cosa gli ha fatto fare il libero, dove ha imparato l'arte della ricezione che Dio sa quanto ti serve adesso. Quanto è importante. Quanto è importante, quanto ti rende, ti ha fatto fare quel scalino in più, perché tu sei due metri e undici. Sì due dieci. E avere una ricezione così alto, Franz tu mi insegni, non è da tutti no? No no ma mi ha aiutato tantissimo, anche perché insomma con questa altezza che ho adesso non è più così facile piegarsi, fare il bagger, andare per terra. Ma anche in difesa mi ha aiutato parecchio, quindi adesso sto raccogliendo un po' i frutti del lavoro fatto quando ero giovane, giovane. Quando era giovane? Perché adesso alla soglia dei suoi quanti anni? 19, 20, 21? 21, dicembre. Eh ancora ventenne. C'è un messaggio da parte di Mauro. Cinque anni fatti dividevi tra la C, la B, alternando i ruoli, se ricordo bene. Dalla palestra di Cristo Re alle Olimpiadi in pochi anni avresti immaginato di bruciare, anzi incenerire le tappe della tua carriera o ne eri sicuro? Ancora complimenti e rimane il genio pazzerello che ho conosciuto. Eh lui dice bene perché diciamo che dalla D che giocavo a Cristo Re, poi serie C, insomma ho fatto tutta l'altra fila, no? A partire dalla serie D, C, B, A3 e poi fino ad arrivare alla 1 e mai mi sarei immaginato in così poco tempo di raggiungere questi obiettivi, però sono felice sicuramente, questo non posso negarlo, però bisogna tenere, come dire, la testa bassa e pedalare perché speriamo di togliercene altre tanti. Ma secondo te è questione di determinazione in questo caso nell'avere un obiettivo e impegnarsi per ottenerlo? Sì, sicuramente, ma io penso ci sono molti molti fattori, tra cui anche un po' la fortuna, perché io penso che alle Olimpiadi non fosse andato se fossero state l'anno scorso, perché erano spostate di un anno e quindi mi ha dato la possibilità di crescere, di migliorare in questo anno e quindi in quel caso lì c'è stata un po' di fortuna per me, però poi tanta voglia, tanta determinazione e sacrifici per cercare di diventare un giocatore di Serie A, della Palavola e della Nazionale Italiana sicuramente. Cioè, tu a vent'anni, anzi più giovane, sei già diventato un giocatore inamovibile della Nazionale Italiana e ovviamente anche di Trento. Il fatto di avere alle spalle una famiglia che di sport se ne intende parecchio ti permette probabilmente di avere il giusto focus su quello che stai facendo, perché io credo, credo, non essendomi mai messo, che a vent'anni, sulle spalle, quando ti mettono sulle spalle i titoli sui giornali, il più forte del mondo, eccetera, cioè uno può anche un pochino sbarellare, siamo sinceri. Sì, sì, no, ma in questo mi ha aiutato molto anche la mia famiglia, no, perché tenere, come ho detto prima, la testa bassa e non dare, non dare importanza, ma dare la giusta attenzione a quello che è i giornali, i social, a quello che si parla di te, no, perché poi dopo la testa passa più a quello che è quello che succede in campo e non è giusto. E quindi in quello lì sicuramente mi hanno aiutato, perché non nasco imparato, mi hanno insegnato loro, no? Non nasco imparato, tagliamo questa frase e mettiamola come logo per sempre. e quindi sicuramente delle volte ho anche sbagliato e mi è stato detto, mi è stato corretto e quindi adesso cerco, insomma, di non sbagliare più sotto quel punto di vista lì, ecco. Ma c'è mai stato un momento nella tua breve e lunga carriera, chiamiamola così, in cui tu hai detto no, basta, adesso sono stufo, cambio sport. Non ce la posso fare, si parla di pallavolo a casa, in famiglia, in palestra, basta. Beh, può esserci un rigetto, è vero, può esserci anche un rigetto. Sì, 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 così forte da dire, adesso smetto, no, però da dire oggi non ho voglia di allenarmi, sì. Perché è ripetitivo, eh. È abbastanza, sì, è tosto. Il fatto di essere mancino è sicuramente una peculiarità in più, no? Sì, 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 sì. Perché avete una rotazione di braccio diversa, proprio, angoli diversi, e quindi anche quello sicuramente lo sfrutto a mio vantaggio. Come sono le tue giornate, Alessandro, in questo periodo, nella fase di preparazione della finale del 22? Ma ci stiamo allenando tantissimo, quindi chiedo anche a Angelo magari di... No, dai, 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 scherziamo, perché stiamo preparando un appuntamento importantissimo, quindi è giusto spingere, spingere forte. Angelo, non ti arrabbiare. Però, tanti allenamenti, e con la testa stiamo già pensando però al 22, perché io che c'ero anche l'anno scorso sappiamo cosa vuol dire perdere, e non voglio che riaccada anche quest'anno, quindi stiamo dando tutto a noi stessi per arrivare lì al meglio, perché vogliamo portare anche un trofeo a questa società. Comunque sei d'accordo che a inizio dell'anno avresti firmato in bianco su una stagione così? Certo, certo. Questa stagione è... ma io penso, anche se non dovesse andare come vogliamo, comunque rimane una stagione molto positiva, abbiamo vinto la Supercoppa in finale di Coppa Italia, abbiamo perso a gara 5 contro la squadra che ha vinto lo scudetto ieri, un terzo posto mondiale, però sai questa è la ciliegina sulla torta, no? Che poi fa dimenticare qualche delusione, è il limite, no? Esatto, esatto, quella dell'anno scorso. Ci sarà poi dopo il 22 un'estate un po' tranquilla per te o sei subito messo ai ferri corti? Ah, ancora non lo so bene questo, dovrò sentire insomma lo staff, Fed e Giorgi. Anche Fed e Giorgi. Sappiamo che c'è VNL, che c'è il mondiale, però comunque bisogna conquistarsi queste competizioni e quando è arrivata la convocazione della nazionale ha fatto piacere perché non è mai scontata e comunque bisogna guadagnarsela nel campo e quindi insomma adesso quando arriverà il momento di spingere per provare, perché abbiamo anche poi le final 8 mi sembra di VNL a Bologna in casa, quindi vogliamo fare bene davanti al nostro pubblico, ai nostri tifosi, agli italiani, però come ho detto prima essere nazionale ha sempre un sapore diverso, portare la maglia dell'Italia e quindi bisogna onorarla sempre al meglio, al massimo. 20 anni. 20 anni, no ma guarda che c'è un'altra cosa da aggiungere, tu, quanta volta c'è venuta, mai, quando è in centro del campo. Io li guardo, li ascolto alla radio. No ma tu li guardi, quando non sembra un ragazzo di 20 anni, magari vicino anche a un monolite come Mattei, cioè è alla pari, nel senso il rapporto non è boccia malta e portami la borsa, no, è proprio tra atleti e questo lo trovo impressionante, lo trovo, e poi ricordiamo una cosa in più, Alessandro è interista, per chiudere il cerchio, è appena stato a Piano Gentile, come ti hanno accolto a Piano Gentile? Ma benissimo, è stato fantastico. Ci hanno rispetto per un campione. Insomma, non mi aspettavo un'accoglienza così bella, mi hanno trattato come uno di loro, mi hanno fatto entrare nel loro spogliatoio, insomma comunque ambienti privati. Che è un po' diverso dal vostro? Ma no, sono solo un po' più grandi, ma essendo più giocatori, poi anche il nostro è molto bello, quindi... Che diplomatico! Sì, ebbè mi trasporto il ragazzo. Sennò a Francia... No, 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 però la cosa che mi ha stupito, ma anche perché insomma sono il doppio come giocatori, come numero di staff, è la grandezza, la quantità, hanno 3-4 campi da gioco, 4-5 e piscine per fare recupero, no? Quindi la quantità è un po' diversa da noi. Anche il budget credo sia, un filo diverso. Messaggio per Alessandro, sei fantastico, eccezionale, un bravo giocatore, ti ammiro anche per la tua umiltà, sono felice per te, in bocca al lupo per il proseguio, ciao Lolita da Lucca. Grazie Lolita, ciao. No, ma è vero, questo ragazzo è inutile spendere altre parole perché lo dimostra con i fatti, con quello che dice di essere un uomo, intanto un ragazzo non si può più dire, insomma un uomo fatto è finito. Allora, noi salutiamo Alessandro, grazie anche a Francesco Segala ovviamente che ci racconterà dal primo all'ultimo punto circa la finale di Ljubljana 22 maggio in diretta su Radio Dormiti, ore 21, quindi non prendete assolutamente impegni perché sarà una finale da vivere e speriamo davvero che l'ha portata in casa, è troppo che manca dall'Italia la Coppa dei Campioni. Grazie Alessandro Micheletto. Grazie mille. Buona giornata. La buona, il brutto e il volley, il programma dei campioni. E il premio Brugola d'oro per il miglior idraulico va a Giovanni. Grazie a tutti, vorrei dedicare questo premio a mia madre. Ciao mamma e anche a chi mi ha aiutato ad arrivare dove sono adesso, Nissan Townstar.